è il simbolo di quello che per noi vuol dire semplicemente essere Veneti ma qua vi dico che non sono qui solo come Veneta quando è stato fatto il referendum dell'anno scorso questa meravigliosa tarta che resterà nella storia che è il 22 ottobre siamo partiti quasi a essere considerati di visionari perché chi in Veneto parlava di autonomia era considerato un visionario guarda caso partita Lombardia, Emilia-Romagna, la Toscana, la Liguria l'Emilia, le Marche, il Piemonte allora chi c'è che ha sbagliato? ha sbagliato forse l'Italia in tutti questi anni? a pensare e considerare che l'Italia sia tutta uguale e non pensare che invece dentro le regioni c'è un DNA che dentro delle regioni c'è un popolo e quel simbolo lì è il popolo Veneto e non sapete con che razza di orgoglio è bello andare a Roma e non sapete con l'Italia